Esordio ufficiale in Maglia Granata allo Stadio Rechi, tre punti conquistati, partiamo però dalla tua prestazione, come ti senti? Bene dai, un po' stanco perché il campo mi mancava da parecchio, però bene dai, sono contento perché venivo da un'esperienza non bella all'estero e mi mancava tanto il campo e ritrovarlo oggi, insomma, per chi gioca e lo fa di lavoro è la cosa più bella che c'è, quindi bene, vado a casa felice. Andiamo a casa con una vittoria importante contro un avversario difficile da affrontare, seppur comunque sia basso in classifica, ma sono partite determinanti perché ti possano svoltare i campionati e poi rischiare di perdere punti e di non stare attaccato al treno, quindi insomma un approccio positivo, una vittoria importante. Proprio in quest'ottica il Misser ha definito la vittoria di oggi con tre punti che consentono alla Sedana di non finire nel limbo ma restare tra le squadre che hanno ambizione. Sì, sicuramente rimani attaccato perché la classifica è corta ma andando avanti è normale che si aprirà e quindi ti permette di rimanere attaccato e di non perdere punti che sono importanti, perché comunque seppur come ho detto prima la condizione classifica non è buona per il Livorno ma un avversario importante che sto convinto in questi mesi andrà a rubare punti sicuramente a qualche d'uno perché è così. E quindi è una vittoria pesante, è una vittoria pesante avvenuta anche attraverso un buon gioco, poi è normale ci sono dei momenti che abbiamo sofferto ma fa parte del gioco e direi che questa è la strada giusta e dobbiamo andare avanti così. Grazie a tutti.